Benvenuti in Dammi Un Minuto, continuiamo alla nostra serie sui giochi di Spider-Man e vi lascio in sovraimpressione il recap della storia del gioco scorso nel caso ve lo siete persi. And now, Spider-Man 2. Il gioco inizia con un misterioso individuo incappucciato che entra in un edificio, neutralizza le guardie di sicurezza e gli scienziati, e vi faccio notare che questo scienziato non ha un braccio, se siete fan di Spider-Man sapete già perché questo dettaglio è importante. Il misterioso individuo si rivela essere Electro, ruba un congegno dalle capacità per ora sconosciute, sconvince facilmente i poliziotti arrivati sul posto per fermarlo e poi scappa via annunciando che ritornerà presto. E si fa anche una bella risata malvagia. Ci troviamo di nuovo sui tetti della grande mela e come sempre a darci il benvenuto a Stan Lee. Facciamo un breve tutorial insieme a bestia degli X-Men e proseguiamo. Vi faccio notare un altro piccolo dettaglio. Se guardate bene, sul giornale che sta leggendo Spider-Man si può vedere come il merito di aver fermato Doc Ock nello scorso gioco si è stato dato a Capitano America. Mentre in pattuglia, Spider-Man ha dato una rapina in corso in un edificio di proprietà della Biotech. Ci lanciamo nell'azione per cercare di fermare un tizio incappucciato che sembrerebbe essere il capo dei ladri, ma non riusciamo a fermarlo, quindi, per evitare di perderlo di vista, Spider-Man gli lancia un tracciante sulla moto. Se siete stati davvero attenti si riesce già a capire chi è questo tizio nella moto, però vediamo quanti di voi ci sono riusciti, fatemelo sapere nei commenti. Rimandiamo l'inseguimento a più tardi, dato che prima dobbiamo fermare i suoi scagnozzi. Li battiamo agilmente e dopo aver messo un paio di drible che nemmeno step curry, riprendiamo l'inseguimento. Seguiamo il segnale del tracciante fino a un magazzino abbandonato dove il ladro consegna una valigetta rubata a un contatto. Ma c'è un problema, l'uomo incappucciato si era accorto di essere seguito e quindi ci fa attendere un imboscato dai suoi scagnozzi. Sconfitti dei pisti? Ne interroghiamo uno per cercare di capire cosa stia succedendo, ma riesce solo a dirci che qualcosa succederà all'aeroporto, nell'Hunkar 18. Prima però di riuscire a fare altre domande veniamo attaccati dall'uomo incappucciato che scopriamo essere Shocker. Sconfiggiamo Shocker, lo portiamo in salvo dal magazzino che durante lo scontro ha preso fuoco e lo lasciamo alla polizia per dirigerci all'aeroporto. Lungo il percorso veniamo attaccati da dei criminali con dei bazooka. Ci fermiamo per affrontarli ma loro armano una bomba e si dividono le quattro chiavi che servono per disarmarla. Li ritroviamo, gli sottraiamo le chiavi e disarmiamo la bomba e riprendiamo il nostro viaggio verso l'aeroporto. Arrivati all'Hunkar 18 vediamo l'uomo che aveva la leggetta precedentemente rubata da Shocker, lo seguiamo nell'Hunkar ma veniamo scoperti e per costringerci a non seguirlo l'uomo lega un pilota svenuto a un aereo in movimento. Prima che riesca a scappare però, Spider-Man riesce a piazzare un tracciante sull'elicottero che il criminale stava utilizzando per la fuga, salviamo il pilota e ci rimettiamo sulle tracce dei criminali che ci conducono a un deposito di treni di proprietà di Hammerhead. Superiamo le guardie e osserviamo da lontano come l'uomo sabbia consegna un'altra valigetta all'uomo misterioso. Cerchiamo di inseguirlo per capire cosa stia succedendo con tutte queste valigette, però l'uomo sabbia tende a fermarci. Dopo averlo sconfitto, riusciamo a salire sul treno e scopriamo che l'uomo misterioso era lo scarabeo e riesce a scappare prima che possiamo fargli delle domande, ma commette un errore. Nei vestiti che usava per camuffarsi c'è un invito per un ballo di beneficenza, quindi adesso sappiamo dove cercarlo. Nel frattempo, Electro spiega il suo piano diabolico ai suoi complici. Creare il dispositivo BioNexus che può amplificare la bioenergia di una persona comune talmente tanto da alimentare un intero isolato di una città, ma nelle mani di Electro il dispositivo amplificherà i suoi poteri a livelli divini. I cattivi hanno acquisito la maggior parte dei componenti del dispositivo, ma hanno ancora bisogno della sua fonte di alimentazione. Credendo che il suo creatore, la dottoressa Watts, possa sapere dove si trova, Electro invia Hammerhead e i suoi uomini a rapirla al ballo di beneficenza dove sanno che si troverà. Hammerhead e la sua gang riescono a trovare la dottoressa Watts. Spider-Man però arriva sulla scena giusto in tempo per evitare che la portino via. La dottoressa ne approfitta per scappare, ma i scagnozzi le inseguono, mentre Spider-Man resta bloccato da affrontare Hammerhead. In ragnaderato Hammerhead, corriamo dalla dottoressa, ma siamo arrivati troppo tardi, è stata rapita dall'uomo sabbia. Cercando ulteriori informazioni sulla dottoressa Watts e sul motivo per cui i cattivi la cercano, Spider-Man chiama il dottor Kurt Corners, suo collega alla biotech, ma sente solo ruggiti dall'altro capo della linea. Temendo che Corners si sia trasformato di nuovo in Lizard, Spider-Man si infiltra in Biotech e supera la sicurezza per raggiungere il laboratorio di Corners, dove si trova di fronte a Lizard. Dopo aver creato un antidoto per riportare Corners alla normalità, Spider-Man ha prendito a lui il piano di Electro, quindi va a indagare nel laboratorio della dottoressa Watts, e scopre che il dispositivo può essere alimentato da uno zaffiro delle dimensioni di una mano. A sorpresa però veniamo attaccati ad un uomo sabbia. Dopo aver sconfitto l'uomo sabbia, Spider-Man legge un articolo di giornale su un zaffiro chiamato Lacrima di Zeus e mostra il museo. Capendo che è abbastanza grande da alimentare il dispositivo bio-Nexus, Spider-Man si affretta a raggiungerlo prima di Electro. Electro ci batte sul tempo e arriva dal primo al museo. Ci siano occupati facendo risuscitare delle statue di antichi samurai. Non chiedetemi come ha fatto, non chiedetemi com'è possibile, non lo so. Sconfitti samurai ci adentriamo all'interno del planetario e combattiamo Electro. Durante il nostro combattimento la dottoressa Watts cerca di mettere al sicuro lo zaffiro. Per un soffio non ci riesce, per fortuna però lo zaffiro viene preso da Spider-Man. Mentre tiene la dottoressa Watts in ostaggio, Electro costringe Spider-Man ad agli lo zaffiro, minacciando la vita della dottoressa. Spider-Man lancia la gemma in aria, mentre Electro libera la dottoressa Watts. Ma quando il nostro eroe cerca di riprendersi lo zaffiro con le sue ragnatele, sbaglia e permette a Electro di prenderlo. Il dispositivo BioNexus è completo. Electro lo usa per sopravviventarsi e trasformarsi in Hyper-Electro. Un essere fatto di pura energia elettrica e vola via in un lampo di fulmini. Spider-Man ferito lo segue sulla cima di un grattacielo vicino, dove sta per iniziare il secondo round. Ma questa sera Electro non può perdere. Questa sera Electro è riuscito finalmente a completare il suo piano. Ehm, posso dire la mia. Si può prendere troppo la mano per un tizio che può essere battuto semplicemente da della gomma. Tra un passo di mammo e di baciata, usiamo i generatori della torre per disattivare il dispositivo BioNexus, sconfiggendo l'eltero e distruggendo il dispositivo. Ehm, piccola curiosità. Lo scontro finale sarebbe dovuto avvenire sulle torri gemelle, ma in seguito all'11 settembre Activision fice rimuovere ogni rifiutimento alle torri dal gioco. Oh, finalmente siamo riusciti a salvare la città e a chi viene dato il merito, ovviamente, a Thor. E il gioco finisce un'altra volta, inspiegabilmente, con una partita di poker. Oltz, aces, over kings. I win again. Bleh. I was never any good at poker. Nooo, so close, so close! If it weren't for Spider-Man, I'd be a god now! Would you shut up? Nooo. You know, in the other games, all I know is this poker. Nah, but maybe they know a few. Hey! You guys know how to play Go Fish?